Buonasera Abruzzo, dal capoluogo le notizie di venerdì 18 settembre, dall'Aquila e dalla Regione. Referendum sul taglio dei parlamentari, la guida, dove, quando e come si vota. Incendio Collepietro, un disastro annunciato. Consiglio Comunale L'Aquila, Del Beato e De Blasis aderiscono a Fratelli d'Italia. Coronavirus, 54 nuovi casi in Abruzzo. Tu ha presentati 19 nuovi autobus per la flotta del futuro, si inizia dalla scuola. Anche Buffon ti fa l'Aquila 1927, acquistati 6 abbonamenti. Per tutte le altre notizie www.ilcapoluogo.it Dal capoluogo, buona serata.